Posta, non fermi più, tagli, ricresce, tagli, ricresce, tagli, ricresce, non c'è via di banano, niente. Guarda che il primo cambio che ho preso era basso, era una tre quarti, avrà avuto un motore doppio di questo, una Ford, basso, per cui era facile anche la caricare. Juan ha vissuto tutto questo tempo, perché veniva a caricare e si arrabbiava perché poi finiti di caricare, loro ci aprirono da mangiare, gli diceva no, no, andiamo, abbiamo altri lavori. E gli diceva che è male, è un cambio che tutto è stato questo, cosa vuoi dire così. Poi insomma avevo le panchine e quando andavo all'interno, trasporto, caricavo tutti quei che incontravo, era bello. C'è stato nel 2000, nel 99, quando ho vissuto qui ho detto guarda, dovresti un giorno, finire la mia vita, facendo qualcosa di utile, prenderei un buon trasporto e farei Canaan, Casillas, trasportare la gente che vedo sulla strada. Il problema del trasporto è uno dei problemi più grossi della gente, ma è legato alla civiltà e al trasporto, sì, sì, però ormai la gente lo usa e aspetta, oh metti via questa roba. C'è una roba da fare dolore. C'è una roba da fare dolore. C'è un'arica per io. C'è una roba da fare dolore. La roba è un'arica per per questo argola. C'è quella che fredda, cosa fa colare ormai. Un bel ruolo di giochiccio. Stiamo attraversando una zona di deforestazione incredibile. Dove alle piante originarie del babasù che abbiamo visto è stata sostituita in parte dalla canna da zucchero. Prima abbiamo visto il bambù o il camion pieno di lavoratori che sta arrivando incredibile. Si parla tanto di deforestazione amazonica ma qui non è da meno certamente perché è incredibile la modificazione del paesaggio e certamente il clima. E' un bel ruolo di giochiccio. L'amore 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 di giochiccio. Cada vittoria vinda di qualche lugar O amor di Cristo nos uniu e è il che nos leva Oì, è il che nos leva È il che nos leva O amor di Cristo nos uniu e è il che nos leva Oì, è il che nos leva È il che nos leva Io sono romero, io vò in Romaria Tra casa santa di Gesù e di Maria Siamo a Barcelar E siamo venuti qui per trovare la balza, il traghetto Per passare dall'altra parte di Piauí Ma si sta facendo troppo tardi E Don Sandro ci tiene a rientrare Peccato perché qui è un bellissimo posto Deus ti salve Maria di Mairu Dos passaros libri Dos oa brillante Certo, ma è meglio non lì Il tuo paesino Coelho Neto Prendere un po' d'acqua perché qui Stiamo letteralmente prosciugandoci Vabbè Vabbè Sì!